Sono Vitto Guareschi, ho 47 anni, ho fatto il pilota professionista per una decina d'anni, ho fatto il collaudatore, ho fatto il team manager in MotoGP. Io sono Gianfranco Guareschi, ho 43 anni, sono il fratello minore di Vitto, anch'io ho fatto il pilota e adesso insieme a lui gestisco la concessionaria di famiglia Moto Guzzi qua a Parma. Io e lui da piccolino ci addormentavamo qui con tutta l'odore di benzina che abbiamo ingerito era difficile che diventavano due calciatori, secondo me. Tutti e due il nostro papà ci ha comunque tirato su e abbiamo cominciato a lavorare in officina, non dal commerciale e dalla vendita e quindi la prima cosa che ci ha insegnato è lavorare accanto alle moto. La passione per le gare è venuta naturalmente perché noi da piccolini andavamo sui campi di gara con il nostro papà perché faceva correre ovviamente una Moto Guzzi. Io mi ricordo che lui da piccolo era quasi sempre scottato perché montava sulla moto con le marmite calde e si scontava. Il campionato Endurance abbiamo deciso di farlo perché volevamo rimettere in pista la moto con cui aveva fatto correre un pilotino nostro padre negli anni Ottanta. La moto è esattamente questa qua. Questa moto non aveva mai vinto una gara prima, dunque per noi era importante portare la vittoria e così è stato. L'idea di fare un kit per la pista con base Moto Guzzi è nata dall'esigenza dei nostri amici, dei nostri clienti che vengono in pista con noi e noi abbiamo messo in campo tutto quello che era la nostra esperienza, la conoscenza sulla moto, la conoscenza degli anni di corsa e abbiamo fatto questo kit che trasforma gli ultimi dieci anni di produzione di Moto Guzzi del Big Block in una moto da corsa, da pista. Ragazzi è un vulcano, già che lo tengo fermo. Ha troppe idee e quindi ci vuole un motore e un freno in una moto. Diciamo che io il motore e io un po' freno. La nostra collaborazione con Pacchelo è nata dieci anni fa, quando siamo andati in America a correre con l'MGS. L'olio che avevamo aveva dei problemi, Pacchelo ci ha fatto un olio apposta per la nostra moto che è andato benissimo e quando noi troviamo una persona che è sulla stessa nostra linea d'onda o una ditta che lavora con la stessa nostra mentalità ci attacchiamo e non ci stacchiamo più, noi ci innamoriamo, poi abbiamo vinto, diciamo che è andata bene, no? Quello che ci rende affini con Pacchelo è la passione. L'anno scorso siamo andati a fare una visita all'azienda, siamo andati a vedere dove si inventano i prodotti, dove provano i cambi della Formula 1 con dentro i lubrificanti e questa cosa qua trasudava passione da chi ci spiegava che cosa facevano, come erano arrivati a quella soluzione. Il nostro motto, Vitto? È volere bene le moto dei nostri clienti come se fossero le nostre.